E' tornato all'antico splendore l'oratorio di Sant'Antonio a San Romano di Garfagnana, proprio nel giorno in cui è festeggiato il santo, conosciuto in Italia come Sant'Antonio da Padova. Nato in Portogallo, concluse infatti la sua vita terrena proprio nella città Veneta. L'edificio appena restaurato è collocato su un crocevia importante a due passi dal centro storico. Per gli abitanti di San Romano ha sempre avuto un significato importante e questo recupero significa davvero molto per tutta la comunità. E' importante anche perché diventerà un punto di appoggio fondamentale anche per i giorni festivi, per celebrare la messa festiva. Naturalmente non dimenticando la nostra parocchiale che è meravigliosa. Tanti gli interventi eseguiti sulla struttura, messa in sicurezza del tetto, ricostruzione del particolare pavimento realizzato a mosaico, oltre alla tinteggiatura e al restauro di due opere d'arte che si trovano all'interno. L'inaugurazione è stata animata dalle note della Filarmonica Verdi di Sillicagnana, diretta da Cristiana Guidi, alla presenza di tanti rappresentanti della comunità di San Romano, ma anche dei sindaci Pioli di Villa Collemandina e Angelini di Pieve Fosciana e ovviamente del sindaco di San Romano, Raffaella Mariani, che ai nostri microfoni ci descrive come questo intervento sia il frutto di un buon lavoro che parte dalla comunità locale ed arriva alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Merito di questo restauro bellissimo è della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dell'Arcevescovato della Geocesi di Lucca con i fondi dell'8x1000, della comunità stessa di San Romano che ha raccolto cifre ingenti e dell'amministrazione che ha aggiunto quello che mancava e fatto attraverso i suoi operai i lavori in economia. Complessivamente abbiamo speso oltre 145 mila euro, un lavoro importante, ma abbiamo messo in sicurezza anche dal punto di vista sismico un fabbricato che sta su tre strade.